Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla prima serata di un nuovo percorso con Python Biela Group, un percorso di quattro serate in cui scopriremo un altro web framework che si chiama GenroPy. Questa volta abbiamo la fortuna di farcelo spiegare dai creatori di questo web framework, quindi siamo molto fortunati. Infatti, oltre a me che avrò un semplice compito di traduzione, saranno con noi Davide, Giovanni e Saverio, che poi si presenteranno via via. Come sempre, solo due parole per parlare di noi. Noi siamo un gruppo aperto a tutti quelli che vogliono partecipare a queste serate. Abbiamo un repository GitHub con tutti i nostri progetti, il materiale delle serate. Abbiamo il gruppo Telegram, in cui ci scambiamo le informazioni, le notizie, facciamo domande, otteniamo risposte. Abbiamo anche un blog che era stato creato in Flask a seguito di un percorso che abbiamo fatto e trovato su YouTube. Abbiamo anche un sito di documentazione che era stato il risultato di una serata su Modern Python, in cui spieghiamo soprattutto l'utilizzo di Poetry da altri tool moderni in Python. Tutto questo è stato grazie a Maria Teresa e Andrea Guzzo, che fa parte dell'organizzazione insieme a me di Python Biela Group. Come dicevo, questo ciclo di serate è composto da quattro. Stasera la prima vedremo l'introduzione a GenroPy, vedremo alcuni siti demo e vedremo anche una parte pratica in cui potremo apprezzare da subito le potenzialità. Poi a partire dal lunedì prossimo inizieremo insieme un progetto, che poi lasceremo ovviamente open source, per gli enti donatori di sangue, diciamo che si occupano dei donatori di sangue. Con questo pretesto vedremo diverse tecniche che possiamo applicare utilizzando GenroPy. Ovviamente tutto quello che verrà creato e anche di più, nel senso che ci sarà anche una parte sviluppata offline, sarà disponibile su GitHub nel repository Learn GenroPy. Quindi iniziamo, proseguo io con una brevissima introduzione su GenroPy, che è un framework, un web framework per single page application, come vedremo. Si può definire heavy client, in quanto alcune logiche appunto sono presenti nei client, ma questo lo vedremo. Super batteries included è uno slogan che ho inventato io. Gli autori di GenroPy non c'entrano perché, diciamo, se lo paragoniamo ad altri web framework, ad esempio Flask o anche FastAPI, che sono molto leggeri e quindi lasciano molti compiti, diciamo, al programmatore. GenroPy nasce molto pesante, lasciatemi dire pesante, ma nel senso che ha tante cose incluse e in parte vedremo, ma forse non faremo neanche in tempo ovviamente a vederle tutte. Ma un'altra cosa che vale la pena citare è che è italiano, quindi probabilmente non è diffuso in tutto il mondo, ma essendo un framework italiano abbiamo la fortuna di avere qui con noi i creatori, abbiamo la fortuna di avere la maggior parte della documentazione, credo tutta in italiano, o perlomeno sicuramente tutta in italiano, poi non so se ci sono anche delle parti tradotte in inglese, poi ce lo diranno gli autori, però questa secondo me è una fortuna. Perché GenroPy? Perché lo vogliamo usare? Perché secondo noi valeva la pena presentarlo in queste serate. Diciamo che queste frasi le ho scritte io per quanto ho capito e per quanto ho potuto sperimentare in questi giorni GenroPy. Poi nel link che è scritto qua vediamo cosa hanno scritto gli autori di GenroPy, quali sono i vantaggi di utilizzare GenroPy. Da quello che ho potuto sperimentare GenroPy è un ambiente di sviluppo ideale per applicazioni back office, ovvero per applicazioni simile desktop, ideale per uffici, per aziende che non badano tanto all'interfaccia utente, ad un'interfaccia accattivante, ma badano al concreto, al lavoro, alle necessità che hanno bisogno, necessità di cui ha bisogno per risolvere i problemi di tutti i giorni. È ideale anche per chi quando nel pensare alle applicazioni ha un approccio di Be First, perché come vedremo viene spontaneo diciamo utilizzando il framework di pensare prima alle tabelle, fare il design e poi scrivere l'applicazione attorno alle tabelle. Ha il vantaggio di poter utilizzare sia per il back-end che per il front-end uno sviluppo integrato ed è tutto in Python con un paradigm MVC model view controller. Come ho già detto battery is included perché ha una serie di pacchetti built-in e svariati componenti già pronti. altra cosa per cui conviene usare GenroPy è che è un web framework in italiano, come ho già detto c'è la documentazione tutta in italiano, in più poi ce lo diranno sicuramente Davide e in company. Ho potuto sperimentare anche personalmente che hanno un canale Telegram in cui praticamente a qualsiasi domanda si ottiene una risposta molto velocemente e questo non è una cosa banale quando si usa un framework di altri. Ho scritto con una storia dietro e davanti perché non so se avremo tempo di parlare della storia di GenroPy, comunque è un framework che non è nato ieri, non è neanche nato l'altro ieri, è già da alcuni anni in circolazione, è utilizzato per molti prodotti a livello professionale, a livello appunto aziendale e quindi di sicuro non è un framework che morirà domani, nel senso che sicuramente ci sono persone che lo usano tutti i giorni per lavoro e quindi sicuramente ci sarà un processo di manutenzione, quindi vale la pena comunque secondo me provare ad usarlo e studiarlo. Gli autori di GenroPy hanno una pagina in cui hanno elencato i vantaggi che offrono gli sviluppatori e gli utenti, però di questa pagina vi manderò il link, lo metterò nel solito video e non vorrei rubare altro tempo appunto ai nostri amici Davide, Giovanni e Saverio a cui cedo subito la parola. Buonasera Mario, buonasera a tutti, io intanto sono Davide, io sono Saverio, io sono Giovanni, anzi ti faccio anche vedere la mia faccia, accendo la telecamera, magari anche Saverio e Davide se vogliono. Avviamo anche il video, eccoci. Eccoci. Allora Davide adesso sei organizzatore, puoi presentare, puoi condividere. Abbiamo Giovanni versione con baffi, Saverio versione con barba e Davide versione senza capelli fondamentalmente, siamo noi. Allora vi condivido il mio schermo giusto? Sì. Ok, datemi conferma se vedete tutto. Vediamo, vediamo. Ok, a questo punto passiamo alla parola al patron di GenroPy, Giovanni direi, che ci fa un intro. Sì, pregherei intanto di andare a mettere quelle, quelle slide sull'architettura di GenroPy, così poi mentre parlo andiamo a spiegare un momento l'architettura. Vi faccio una brevissima introduzione. Vedete? Intanto? Sì, sì, grazie. Ok. Vi faccio una brevissima introduzione storica di GenroPy. GenroPy è nato come terzo, quarto step nella mia vita lavorativa. Io ormai ho una certa età, ho esattamente 48 anni, ma in esa decimale purtroppo, e quindi sono un pochino di più. Ho iniziato a sviluppare software quando ne avevo 22 decimali e a questo punto ho sempre capito che per fare del software bisogna prima prepararsi librerie, strumenti e ambiente di lavoro perché la produzione di software, se si vuol fare in un modo professionale, richiede di standardizzare il processo produttivo. Non si può ogni volta che c'è un problema inventare soluzioni nuove perché la nostra conoscenza degli strumenti che utilizziamo è sicuramente la chiave di successo dei prodotti che facciamo. Diciamo che un bravo artigiano, anche con gli strumenti più rozzi ma che conosce perfettamente, fa dei lavori molto migliori di persone che utilizzano degli strumenti anche molto sofisticati ma di cui hanno una conoscenza solo marginale. Quindi noi abbiamo deciso di farci lo strumento e di conoscerlo molto bene. Vi salto tutte le varie edizioni dei framework per produrre software fatte da me in vite precedenti e vi dico soltanto che Gero Pai è stato presentato per la prima volta a Pycon nel 2007, a Pycon 1 e quindi dal 2007 al 2021 sono un po' di annetiche presente. Diciamo che è diventato operativo presso clienti, precisamente presso un grande cliente in Australia nel 2010 e quindi diciamo che c'è da 11 anni che una grossa azienda australiana sta utilizzando questo prodotto e tuttora stiamo sviluppando e teniamo il cliente attivo. Sempre parlando del mercato australiano ci sono circa 200 medici anestesisti australiani che utilizzano Gero Pai per la loro attività professionale e quindi questo ci dice che il prodotto funziona da tanti anni e funziona bene. Ma veniamo a questo punto a capire in che cosa Gero Pai è diverso da quelle che sono le web application normale. La diversità nasce da una intuizione che nel 2004-2005 quando abbiamo cominciato a lavorarci ci ha fatto capire che l'utilizzo come era fatto in quel momento del web ovvero sia pagine HTML con un pochino di logica messa in qualche maniera con dei piccoli JavaScript non poteva portare a costruire delle applicazioni complesse. Quindi abbiamo studiato gli strumenti che ci servissero, ci siamo di fatto inventati le single page application che sono lo standard attuale per moltissime applicazioni ben prima che diventassero uno standard comune quindi diciamo in un certo senso abbiamo precorso i tempi e questo ci ha dato la capacità e la possibilità di fare moltissima esperienza. La scelta di Python come linguaggio per sviluppare questo prodotto è stata motivata dal caso ed è stato un momento estremamente felice e di fortuna perché mi ha messo ci ha messo in condizioni di conoscere una persona molto molto capace e molto preparata nonostante la giovanissima età che mi ha fatto innamorare del linguaggio e mi ha fornito delle buone conoscenze e quindi mi ha dato la possibilità di apprezzare il linguaggio. Linguaggio che offre una varietà di strumenti interni che per chi veniva da linguaggi diversi rappresentava veramente l'avverarsi di un sogno, tutta la parte di introspezione di Python, la possibilità di vedere e di passare delle chiamate, delle funzioni come oggetti. Cioè era tutto così bello, così potente che veniva veramente voglia di farci qualcosa di molto ambizioso. Infatti si sono stati molto ambiziosi. Allora perché parliamo di single page application? Perché la cosa che si usava ai tempi era quella di dire io carico la pagina, una form, riempio certi campi, mando indietro una certa risposta, poi ricarico un'altra pagina che contiene i miei dati e ogni volta diciamo la form faceva avanti e indietro in un procedimento alquanto inefficace. Quindi il nostro primo, la nostra prima idea è stata quella di costruire un sistema MVC, model view controller, che risedendo sul client si facesse dare una volta per tutti una, diciamo, una, la ricetta, chiamiamola così, il form, la form e poi gestisce separatamente in modo completamente autonomo il passaggio della sola parte dei dati che devono essere elaborati e poi salvati nel database o gestiti o stampati. Quindi la missione era quella di fornire uno strumento unitario in modo tale che client e server fossero visti come un'unica entità che dialogava in modo abbastanza trasparente sia per lo sviluppatore che per l'utente. Una buona GUI e un unico paradigma di design, cioè la possibilità di usare, ovviamente quando si parla di client, di fatto noi stiamo lavorando in JavaScript, però stiamo lavorando in JavaScript mascherandolo da Python e utilizzando le stesse librerie, gli stessi comandi con piccoli adattamenti sintatici che utilizziamo in Python. Non sto a leggervi tutti i punti di questo discorso che vi ho già accennato e diciamo che la cosa fondamentale che adesso poi potremo vedere negli applicativi è che l'esperienza d'uso che volevamo dare ai nostri clienti era quella di una perfetta emulazione di un prodotto desktop. Perché? Perché mentre nel web si poteva specialmente, vi ricordo che io sto parlando non del 2021 ma sto parlando del 2007, 2008, 2009, nel web non era proprio concepibile pensare di fare delle foro complesse, delle griglie, cioè certe azioni diventavano improponibili o richiedevano una quantità di lavoro immensa per poter essere sviluppate. Quindi il fatto di voler essere molto molto simile al desktop era decisamente una grossa sfida. Quindi io direi che la mia piccola introduzione per quello... Aspetta, volevo aggiungere una cosa anch'io, invece facendo un paragone rispetto invece al modo di fare programmazione web oggi, come qua c'è scritto effettivamente che ultimamente ci si divide molto le competenze per quelli che sono gli sviluppatori front-end e sviluppatori back-end, sono quasi... addirittura ci sono persone che odiano Java, scritto, odiano tutto quello che sono quelle lì per fare la GUI e invece poi ci sono quelli che fanno solo questo e ignorano tutta la parte server. Questa fusione, diciamo, questo approccio unitario che noi abbiamo cercato di fare è quello che permette a uno sviluppatore o comunque un piccolo di team di fare una sorta di one man band per cui riesce a realizzare l'applicativo sin dalla progettazione del database fino a tutti i meccanismi di interfaccia grafica, di interazione anche molto sofisticata che John Ropai è in grado di dare all'utente, nel senso, pagine estremamente dinamiche, pagine estremamente complesse, con articolate, il tutto gestito da la stessa figura professionale che è la one man band sviluppatore John Ropai. Aggiungo a quello che ha detto Saverio che John Ropai offre anche un suo ORM che è completamente integrato nella filosofia, nel tipo di scrittura, per cui anche la conoscenza dell'SQL non è necessaria se non per alcune parti minimale, ma John Ropai si preoccupa di tradurre in SQL buono, corretto, discretamente efficiente tutto quello che lo sviluppatore fa in Python, cosa che fanno anche altri ORM, ma noi siamo relativamente convinti che l'ORM di John Ropai sia, almeno per il nostro caso d'uso, un oggetto particolarmente felice e azzeccato per aiutare le persone a lavorare in fretta, perché quello di poter scrivere in fretta vuol dire che sostanzialmente ci lascia molto più tempo libero per fare altre cose che ci possano piacere, come studiare, andare in giro e anche divertirci. All'inizio il motto di John Ropai era Python for Lazy People, poi dopo forse era qualcosa di troppo ambizioso dire che dovevano essere pigri i nostri sviluppatori, siamo passati ad un altro... Diciamo che o per small team, ma anche volendo, perché appunto permette di avere una grandissimo effetto leva grazie anche alle famose batteries di cui parlava Mario. Ecco, adesso ruberemo a Mario le super batteries. Bene, io quindi passerei a questa, fatta questa breve introduzione, mi sembra che il programma prevedesse che intanto vi facessimo una piccola demo, ma proprio senza nessuna ambizione, per mostrarvi più o meno quali sono gli applicativi che possiamo generare con John Ropai. Il nostro applicativo, e qui nostro parlo di software, che è la casa, la piccola software house di cui noi siamo prodi e fieri esponenti, di produrre un gestionale completo che si chiama Herpi e chiedo quindi per favore a Davide di andare su un demo che abbiamo di Herpi. Questa è una società che si chiama Finta, che si chiama Pollice Verde, che ogni tanto manteniamo aggiornate come scritture, ovviamente essendo una società finta, non ha dati molto aggiornati, che ci consente di farvi vedere che tipo di interfaccia abbiamo. Allora la nostra interfaccia caratteristica è data da un menu che può essere configurato e gestito a piacere, il cui contenuto varia in funzione dei permessi dell'utente, che ha l'utente al momento dell'autenticazione, e andiamo a vedere come si presenta ad esempio una pagina di un cliente, quindi invito ad andare sulla grafica clienti, possiamo anche digitare clienti. A questo punto inneschiamo il processo. Questo è quello che si riesce a ottenere con Geropai nel modo più facile, sfruttandola a pieno. Cos'è il difetto? Il difetto è che tutte le pagine sono sostanzialmente molto simili. Qualunque software vi faccia vedere realizzato in questo modo, le pagine si presentano così, che da un lato è un vantaggio per gli utenti, perché poi una volta che gli hai mostrato come funziona una pagina, tutte le altre pagine si presentano nello stesso modo. Intanto Davide ha preso e ha fatto una query dicendo voglio vedere tutti i clienti, se io voglio cercare un cliente in particolare, cerco, digita qualcosa. Ok, cerchiamo qualcosa che ci dia un po' più risultati, in modo tale da avere una selezione. Non solo A, perché sennò effettivamente ci panno. Oppure potremmo cercare tutti quelli che stanno nel comune di Milano. Come faccio in questo caso? Semplicemente in questo menu vedete che io a questo punto posso, con l'editor completo, con la query semplice, con la query semplice, io vado a cercare tutti quelli in cui il, cerchiamo il, la, la, scrollo un po' in basso, la provincia sia uguale a Milano, saranno quasi tutti di Milano forse. Ok, praticamente io in questo modo vado a cercare, posso andare a cercare tutti i clienti che ho, sali da, anzi che provincia vai a cercare la località. Non hai collegato il comune ma la località qua. Allora, no qui credo che abbiamo, è una versione semplificata. È una versione semplificata che non lo hai. Ho capito, va bene, non importa. Entra dentro magari nella, nella form così facciamo vedere perché è così. Vediamo un momentino, questo è un esempio di vista, questo è un esempio di form. Come vedete è una form ricca, io posso vedere l'anagrafica, posso andare a vedere le sue, le sue fatture, quindi vai sul partitario. Come vedete io posso prendere tutte le partite di questo mese. scegliamo tutte le partite, tutte, no no, nelle sezioni, dammi scusami, perché se cerchi le partite aperte. Ecco, certo. Ok, queste sono le varie partite, prendiamo del 2020, oppure prendiamo anche tutte le partite in generale, quindi selezioniamo nessun periodo in particolare. Ok, queste sono tutte le partite, io vedo che qui c'è una, selezioniamo un documento qualsiasi, possiamo aprire i pareggi, mostra pareggi, quel bottone sotto, bravissimo. Vedete che si apre un'altra griglia. Io seleziono... Ma c'ho questo che mi nasconde, adesso vedo come riesco a togliere la barra di... No, ma si vede, eh? No, è che non lo vedo io perché me ne nasconde. Sì, la barra di zoom ogni tanto dà fastidio, è vero? Devo capire come si toglie, scusatemi. Bene, intanto puoi selezionare sulla zona di sinistra, seleziona un documento qualsiasi, no, no, nelle righe. Ok, praticamente vedete che questo incasso è andato su questa fattura, puoi scegli un'altra riga sopra nella... Perfetto. Ecco, in questo modo io posso... Vedete che ho due griglie sincronizzate e questo proprio per far capire che tutte queste cose sono estremamente semplici, piuttosto veloci come realizzazione e questa pagina andiamo a vedere le scadenze, andiamo a vederle ritenute, andiamo a vedere la dichiarazione di intenti, andiamo a vedere la statistica, la fatturazione, gli articoli acquistati, eccetera. Cioè è una pagina estremamente ricca di funzionalità. Andiamo a vedere una gestione di un'operazione contabile. Nel frattempo io specifico che essendo chiaramente un database di demo purtroppo è semivuoto, quindi molte griglie non danno poi l'effetto desiderato. E non potremmo... Visto che equivale a tenere una contabilità praticamente parallela per noi, nel senso che dobbiamo tenere anche quella della zona di produzione tra virgolette, diciamo che... I tanti altri software che abbiamo fatto custom per dei clienti chiaramente non li possiamo mostrare perché ci sono i dati veri. Esattamente. Quindi a questo punto noi andiamo a prendere le operazioni del 2021, possiamo immaginare di registrare una fattura, tanto per dire, quindi disblocchiamo il lucchetto, facciamo più, lui ci fa vedere i tipi di scrittura, andiamo nei fornitori, registriamo una fattura a fornitori, andiamo nelle fatture, facciamo una fattura ricevuta. Vedete che sono cose che tutto sommato noi riteniamo che siano abbastanza difficili da trovare nel web, fatte in questo modo, con questa tecnica. Poi magari voi avrete visto altri sistemi che lo consentono, però dalle nostre conoscenze, almeno per quando ne abbiamo cominciato, non era così facile ottenerlo. Mettiamo un numero di fattura, una data della fattura qualsiasi. Mettiamo un importo su quell'imponibile. Ecco, notiamo che ho scritto oggi, per esempio, nella data, lui automaticamente intuisce che oggi. Ok, mettiamo pedaggi autostradali per 100 euro, 123 euro. Ok, ci piace. Possiamo salvare questa fattura col dischetto. A questo punto lui ci fa tutte le scritture. Andiamo a vedere nei movimenti. Andiamo a vedere, per dire, questi qui sono tutti movimenti, movimentiva collegata. Andiamo a vedere i mastrini. Clicca su Mastrini. Solo operazione. E quindi ci fa vedere quali sono i mastrini che ha fatto, eccetera. Quindi, come vedete, non è che ci voglia perdere tempo e vi voglio insegnare la contabilità. Però, per farvi capire, che questo tipo di approccio consente di creare delle interfacce molto potenti. Puoi stessi far vedere il bilancio dell'XBRL. Ecco, facciamo vedere. L'avete fatto qua sull'XBRL? Credo ci sia. No, no, devi vedere il cruscotto contabile. Ah, scusa, era il cruscotto, ok. No, 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 era questo. Ah, no, questo è il cruscotto contabile, non l'XBRL, allora. Il cruscotto contabile. Ok, andiamo a vedere. Questo ad esempio è una situazione che mi mostra tutti i mesi e tutti gli anni che ci sono. Io seleziono l'esercizio 2021. Qui praticamente vedo tutta la situazione dei vari mesi. entro sul mese di gennaio. Dico, voglio vedere il bilancio. Clicca su bilancio. Apro il bilancio. Apro i vari mastrini, i vari conti. Qua non c'è molto, nel senso che è un po' poco popolato. Va bene. Ok, quindi questa era per dare un'idea di un'applicazione. Cioè un'applicazione molto grossa e molto completa e così fate conto che Erpi avrà un qualche centinaio di tabelle e quindi alla contabilità, contabilità industriale, magazzino, fatturazione, fatturazione elettronica, riconciliazione bancaria. Cioè una serie di funzionalità propria di un Erpi moderno, gestione, ordini, clienti, fornitori, produzione. Insomma, tutte queste cose. Magazzino, produzione. Sì, sì. Tutta la cosa realizzata con Gerro Pai. Adesso invece Davide vi fa vedere un progettino che ha realizzato lui per vedere un altro tipo di applicazione e quindi passerei la parola a Davide per presentare. Noi abbiamo fatto recentemente una specie di piccola gara tra gli utenti di Gerro Pai per mostrare i loro progetti. Poi volendo vi passeremo il link. Davide ha partecipato, nonostante fosse tra gli organizzatori, come modello di qualcosa che ha fatto lui prima di diventare... Diciamo che è un po' al limite dell'insider trading, accorci, però... Diciamo che era fuori concorso, ma per dare un esempio di come poteva essere, lui ha fatto Condominio.zero che in realtà è un sito fatto, questa parte, in WordPress, credo, no? Sì, esatto. Allora, questo è un sito fatto in WordPress per un'azienda che si occupa di riqualificazione energetica e fondamentalmente loro si occupano appunto del super bonus 110% dei condomini, principalmente condomini, ecco, come interlocutori. e l'esigenza era avere all'interno di questo sito fatto in WordPress un sistema che fosse un calcolatore, cioè io, utente, arrivo sul sito, compilo una serie di dati e ottengo, diciamo, un risultato. Il risultato cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dirmi quanto posso risparmiare come condominio adottando una serie di misure. Queste misure possono essere, per esempio, pannelli fotovoltaici, piuttosto che cappotto termico, modifica della Galdai, eccetera. E si basa tutto su una serie di calcoli effettuati poi dal titolare dell'azienda, il quale, sulla base di una serie di dati molto semplici, in realtà permette di stabilire una stima di quello che effettivamente può essere il risparmio energetico. Quindi, per esempio, come abbiamo visto, lo rifaccio un attimo perché sono andato un po' veloce, attraverso la pagina Calcola arrivo su un frame il quale frame mi apre un'applicazione GenroPy. Quindi, di fatto, io qua ho un'interfaccia estremamente diversa rispetto a questa che è l'interfaccia, diciamo, più standard GenroPy dove ho un menu a sinistra e ho una serie di schede con delle pagine. Qua ho una pagina costruita in maniera completamente diversa che posso embeddare all'interno appunto dell'applicativo in WordPress e qua io eseguo come utente la mia azione. Quindi, nello specifico, prima do un ok, diciamo, al fatto di processare i miei dati e dopodiché compilo una serie di dati. Vabbè, questa è la parte un po' più noiosa, diciamo, però andiamo un po' veloci. E nel compilare i dati, adesso li compilo fasulli, diciamo, sempre questi qua che mi suggerisce così andiamo un po' più rapidi. Io riuscirò alla fine a partire con il mio calcolo. Anzi, mettiamo tre, siamo a due, un po' troppo qua. Appartamenti, questi sono tutti i dati che il sistema utilizzerà per effettuare una serie di calcoli che poi non andiamo a vedere chiaramente. Centralizzata, la caldaia e il consumo combustibile. A questo punto, io mi sblocco il bottone avanti, il sistema effetto una serie di calcoli ed ecco che mi propone un'altra pagina. Sulla base di questa pagina io posso a questo punto indicare la serie di interventi che voglio andare a fare. Quindi, per esempio, voglio fare... anche lei è un iframe europei, dico bene? Sì, 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 è tutto dentro un iframe europei. Questo qua, in particolare, quel bottone avanti e indietro è un wizard di fatto, cioè dove io posso andare avanti e indietro nella compilazione con una serie di pagine. a questo punto gli dico cosa voglio fare, ipotizziamo pareti, suolo, tetto, eccetera. Lui mi va avanti con il mio calcolo, ipotizziamo di fermarci qui e mi stabilisce che sulla base degli interventi effettuati io passerò dalla classe energetica G alla classe F e che avrò un costo complessivo tra 140 e 186.000 euro. A questo punto posso stampare il risultato. Quindi qui si apre anche il mondo delle stampe. Ecco che effettivamente mi viene generato un PDF con carta intestata, con parti compilate sulla base di un template che chiaramente abbiamo impostato, dove noi abbiamo tutti i dati che abbiamo inserito, abbiamo tutti i costi del progetto e abbiamo anche tutti i benefici, cosa che possiamo consegnare subito all'amministratore, eccetera, eccetera. Ed ecco quindi che effettivamente vediamo che noi arriviamo fino alla fine, stampiamo il nostro PDF, poi ci viene creato un utente sul portale automaticamente sulla base delle credenziali che abbiamo inserito e noi potremo entrare e controllare diciamo il nostro profilo e il nostro condominio inserito. Quindi vediamo che questa è un'interfaccia embeddabile all'interno di un portale in questo caso fatto in WordPress ma potrebbe essere fatto in qualunque altro modo, completamente diverso diciamo dall'infrastruttura standard. Ecco. Diciamo che esatto, è un esempio interessante per vedere un'applicazione al di fuori della solita cornice che poi vedrete anche nella nostra applicazione demo e tutte le altre tipiche. Una cosa nota interessante è che abbiamo fatto ovviamente anche delle applicazioni invece per essere visualizzate da dispositivi mobile e addirittura dalle casse touch di un negozio per cui alla fine uno non è strettamente vincolato a quel tipo di presentazione ovviamente però se deve fare un gestionale o comunque un software che serve a gestire un database si trova talmente tanta pappa pronta che è comodo utilizzare quello che già c'è. Esatto, tutto questo per dire che insomma le interfacce possono essere estremamente diverse dipende da quanto uno poi si vuole mettere in gioco tra virgolette con i CSS nel senso che effettivamente anche tutto il discorso mobile può essere personalizzato in toto in questo caso per esempio lo abbiamo fatto anche per Condominio Zero per fare proprio un'interfaccia che sia un po' diversa ecco. Ok, direi che noi volevamo mostrarvi quello che si può ottenere io magari chiederei a questo punto se ci sono domande poi potremmo passare al punto successivo se Mario è d'accordo e se siamo in linea col programma che avevamo in qualche modo concordato. Sì, sì, certo le domande le controllo io sempre dalla chat oppure se qualcuno vuole fare dal vivo ovviamente liberissimo perché adesso abbiamo previsto di fare vedere velocemente appunto le potenzialità però anche adesso iniziamo con una parte pratica vediamo proprio con poche mosse tra virgolette cosa riusciamo a fare con il framework in modo pratico partendo da zero quindi chi vuole faccia delle domande su questa prima parte e comunque le può continuare a fare tramite chat e direi che possiamo proseguire. Ciao, mi sentite? Sì? Ciao, ciao sono arrivato in ritardo però ci teniamo a salutare anche ma io ho una domanda in realtà che integrazione tipo con O-Out2 insomma gestione poi della sicurezza eccetera è vero che è presto ancora adesso per parlarne però avete fatto qualcosa? noi con O-Out2 ci sta lavorando ci ha lavorato un altro membro del team che si chiama Michele Bertoldi e non so sinceramente come sia lo stato delle cose perché lui ha un cliente piuttosto grosso molto molto grosso che va nella necessità di implementarlo abbiamo implementato autenticazioni il DAP quindi diciamo aziendali e diciamo che è tutto molto aperto cioè siccome il sistema di autenticazione è pluggabile basta in qualche modo conoscere la tecnologia e inserirla e diciamo il vantaggio di avere un open source e avere anche l'appoggio degli sviluppatori vuol dire che chiunque abbia una buona idea per migliorare le cose lo accogliamo a braccia aperte e lo aiutiamo per quanto c'è possibile cosa che magari con altri framework è un po' più difficile trovare un aggancio così diretto verissimo sì c'è un'altra domanda ah no scusa avete finito con questo no volevo volevo solo dire un'altra cosa che vabbè poi magari sicuramente ce la farete vedere quanto è complicato e difficile utilizzare delle nuove interfacce diciamo cioè web quindi scriversi cioè quanto è stato difficile Davide in realtà scrivere quella quella iframe dentro wordpress no allora in realtà il discorso è questo cioè come ogni cosa che riguarda il mondo web tra virgolette dipende uno quanto poi lo mastica nel senso che allora la bellezza di genre è che lavori in python ok poi però quando passi sul sul lato interfaccia diciamo che poi ti devi sporcare un po' più le mani lato html barra css e quindi poi dipende quanto uno lo manovra ecco diciamo che io per condividere la mia esperienza io arrivo arrivo dal web in realtà non arrivo dal python io mi sono approcciato a genro pai un anno e mezzo fa circa che non avevo minimamente idea di cosa fosse python non eri nemmeno un programmatore non ero nemmeno un programmatore io mi occupavo di web e di digital marketing fondamentalmente e sono arrivato comunque a muovermi abbastanza bene diciamo lo dico non arrogantemente lo dico diciamo per condividere un'esperienza e quindi diciamo che avevo più competenza lato magari html css però non è non è nulla di non è nulla di travolgente ecco bisogna mettersi un po' con pazienza io ricordo che c'era un nostro uno sviluppatore genro pai che aveva realizzato per suo come pet project suo un trello quindi riproducendo l'interfaccia di trello ma in genro pai parlando meno di di pet project vi posso portare la testimonianza di Luigi Renna che è uno sviluppatore siciliano che ha incontrato un po' di anni fa genro pai per caso su youtube a natale mentre era le vacanze di natale si è innamorato ci ha giocato un po' ed è andato in produzione col suo primo cliente dal vivo a marzo quindi dopo tre mesi facendo altre lavorando quindi se si usano le feature standard di genro pai è molto facile e molto semplice se si vogliono fare cose un pochino più sofisticate ci vuole un attimo più di tempo ma è sempre molto facile cioè il giudizio delle persone è che si ti richiede di conoscere un po' di cose però sono tutte molto coerenti molto semplici quindi spero che il fatto di essere il papà di questo progetto non mi faccia vedere questo figlio in un modo troppo generale ne approfitto per visto che hai detto dei nostri amici della community ne approfitto per segnalare che abbiamo creato un articolo del blog dove potete vedere che effettivamente ci sono che ha fatto l'avlevamento delle cozze per il modellismo Luigi che poi ha fatto tutta la gestione per la provincia di Enna dell'emergenza covid un sistema per le riscossioni dei tributi via web cioè queste sono esperienze racconti di gente che ci ha provato si è sporcata le mani e ha veramente in poche due o tre mesi si è messa a usare professionalmente il prodotto con gli utenti che ci lavoravano veramente a questo momento c'è una domanda sul background necessario per chi vuole iniziare c'è qualche prerequisito rispondo io python python ma non serve conoscerlo a livelli stratosferici diciamo uno lo conosce a livelli stratosferici meglio però non è un requisito python diciamo che è la cosa colmabile rapidamente poi ovviamente conoscere un po' di javascript perché noi diventa molto bello poter embeddare noi diamo la possibilità di embeddare delle parti di javascript e importare dinamicamente delle piccole librerie javascript che uno può sostanzialmente aggiungere alla sua pagina quindi come fa un'importazione di foglio di stile css puoi importare un tuo piccolo modulo javascript o embeddarlo direttamente nel codice python della pagina vedremo poi come e poi ovviamente conoscere quelle basi proprio del concetto di basi di dati quindi che cosa significa una foreign key una primary key cosa significano le relazioni insomma queste cose qui giusto l'infarinatura diciamo che ha detto Mario che genre pie è di be first ma io giungo non è di be only quindi se uno per esempio vuole fare un'applicazione per fare gli anagrammi adesso la butto lì per fare facciamo vediamo l'applicazione per fare gli anagrammi Davide ce la prende ce l'abbiamo qui c'è presente il buon Carlo Miron che sicuramente si ricorderà come è nata questa applicazione è nata sulla mailing list di python allora ce la dovremmo avere qui ok anagrammi 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 perduta qui tra l'altro è simpatico la versione con più parole è export scusami questa è una documentazione che comunque è stata fatta in gerobai cioè nel senso si usa poi sphinx e facciamo ad allargare perché visto così è in un frame molto piccolo quindi va bene facciamo ecco qui vediamo il codice il codice dell'applicazione sono se scrolli meno di un centinaio di righe tra gestione degli anagrammi e quindi non so chi è che vogliamo mettere come come nome Mario come ti chiami di cognome Nardi giusto Nardi Mario Nardi facciamo un bel run mi è piaciuto qualcosa non c'è il glossario in locale effetto demo no devi farlo dal sito non dalla formazione devi farlo dal sito perché in locale non hai il glossario cioè non hai installato il dizionario quindi non ah ecco che si vai su genropaia.org ah ce l'abbiamo anche online ecco mi sembrava sì se no non può funzionare no mi sembrava che online non l'avessimo messo alla fine invece ce l'abbiamo allora vediamo un po' Mario Nardi ho detto tre let tre parole tre lettere c'è qualcosa che ti sbalda sette troppo non è molto non gli piace non gli piace poco ok eccoli qua ok Ndori Ram Ordinai Mar Ridiamo Ridiamo Ram andiamo verso Ordinai Ram diciamo che uno è carino sono 1818 anagrammi con un server time di un secondo virgola 173 vai sull'ultimo proprio in fondo in fondo ok facciamo dormi e cerchiamo dormi dove c'è auto cerchiamo dormi nel search box nel search box come vedete la griglia automaticamente risponde cerchiamo tutti quelli che hanno Naya eccetera e volendo posso prendere e farmi un bel export in Excel adesso qui il pulsantino non lo vedo più assoluto in basso a destra ok io posso prendermi e farmi un export in Excel e regalarlo a Mario dicendo questi sono tutti i tuoi anagrammi ora questa cosa evidentemente non possiamo aver scritto tutto in 100 meno di 100 righe di codice compreso la gestione degli anagrammi quindi questo è per questa ragione che viene detto con le batterie included perché fornisce la possibilità di concentrarsi sul vero problema il vero problema cos'era chiedere una parola puoi lanciare un comando al server e dire fai gli anagrammi e rendimi il risultato quindi la parte di interfaccia che voi vedete che va dalla linea 7 scende un attimo alla linea 30 è tutta la nostra interfaccia poi facciamo una vai a vedere sotto la parte di server il no ecco e questo invece la chiamata sotto questo public method quello che carica il grossario è poi quello che fa l'anagrammer la classe anagrammer dalla 1973 gestisce gli anagrammi quindi questo è un esempio di dire ok io ho fatto una cosa che fa gli anagrammi quanta fatica posso fare a portare questo prodotto sul web ecco con Genropay molto poca e se noi andiamo a vedere nella gallery di Genropay e andiamo a vedere proprio nella gallery qua andiamo a vedere l'esempio di server time cpu times questo è un esempio del tempi di cpu dei vari core quindi vedete questa è una paginetta molto semplice sono 23 righe di codice python in tutto praticamente noi alla linea 8 mettiamo un aquigrid poi lanciamo un metodo che usa l'ottimo plug-in che si chiama PSUtil e utilizzando PSUtil si fa dare il consumo dei vari core li butta in una bag che è un oggetto che se userete Genropay imparerete a conoscere ad amare questo lo rispedisce indietro e il Genropay lo presenta con una griglia se vogliamo vedere una versione leggermente più elaborata andiamo dove c'è processi questo è un mini tops fatto anche lui in poche righe dove io posso vedere i vari processi posso selezionare quali colonne voglio vai a destra sulle colonne dico voglio vedere lo status il P di create time automaticamente la griglia si allarga in tempo reale lui continua a fare le sue chiamate con un timer e aggiorna eccetera quindi se avete la voglia di lavorare anche con librerie pythoniche sul server e vi viene voglia di prendere e fare un'interfaccia in pochi minuti ma veramente in pochi minuti questo può essere uno strumento non so immagino chi fa scrapping e magari vuol presentare i risultati e li presenta un pochino bene cioè lui fa il suo oppure vuol fare dati finanziari vuol fare big data ecco comunque sia questo che quello che abbiamo visto prima degli anagrammi sono sempre degli iframe dentro a delle pagine html questo dentro al nostro sito diciamo esatto di jarropai mentre quell'altro era un manuale fatto in sphinx quindi html con un iframe che addirittura aveva la pagina con la doppia questo qua li ha di fianco codice e risultato lì erano invece li vedevamo c'era quel bottone per passare dalla demo al source e quindi questo ha fatto sì che tutti i nostri manuali documentazione esercitazione tutorial sono interattivi esatto adesso il programma prevederebbe la super demo velocissima di come partendo da un database si può comunque generare un progettino jarropai quindi se non ci sono altre domande urgenti abbiamo dato una risposta per far capire che non si scrive si scrive poco codice e quindi scrivendo poco codice per quanto uno ci possa mettere 5 minuti per riga ma se sono 20 righe il tempo che ci mette è quello e quindi veramente è piuttosto semplice e il programma prevede adesso siccome Mario ha detto DB first ma diciamo che abbiamo preso in parola la cosa e abbiamo detto ma se io ho un database e in questo caso noi andiamo a utilizzare un database che è pubblicamente disponibile come database di test e vogliamo da questo database creare un'applicazione jarropai come si fa? adesso Davide sta aprendo un applicativo che fa sempre parte di aspetta un momento rallenta che si chiama Package Editor che anche lui è scritto in jarropai cioè questo prodotto che voi vedete non è altro che un'applicazione scritta in jarropai e che cosa fa? sostanzialmente accede al file system prepara tutta la struttura di un progetto prepara tutto quello che serve come cartelle e mi consente di andare a prendere un database esterno farla l'introspezione e costruire tutte le tabelle le forme le risorse che mi servono a partire da quello che troviamo nel database adesso Davide cedo la parola Davide che vi racconterà non con la stessa fretta con cui ha fatto il filmato per favore due minuti ma due minuti era per fare una specialità era volutamente per far vedere che era una cosa veloce ecco vai un pochino è uno strumento che ci permette da interfaccia di creare proprio un progetto da zero la premessa è partire da un altro progetto già esistente quindi se per esempio noi dopo aver installato GenroPy cloniamo sandbox che è il nostro progetto diciamo muletto a questo punto da sandbox noi troviamo una funzione che si chiama package editor che ci permette di avviare questa procedura allora la procedura ci permette di innanzitutto creare un nuovo progetto quindi io per esempio posso creare il progetto musica posso dare una cartella dove inserirlo allora GenroPy è la cartella di sistema custom nel momento in cui noi abbiamo installato GenroPy è la cartella dei progetti quindi in questo caso la inseriamo in custom ci permette di scegliere una lingua in questo caso posso lasciare inglese o italiano è del tutto rilevante ci permette poi di inserire una serie di pacchetti di sistema allora questo perché perché GenroPy comunque funziona con una logica a package quindi io posso attivare o disattivare dei package al bisogno tra virgolette Sys è il pacchetto di sistema Admo è il pacchetto che di fatto mi permette di gestire tutte le utenze in questo caso per il momento soprassediamo su questa cosa e li inseriamo confermo e creiamo possiamo vedere che cosa ha fatto in questo momento sul tuo file system Sì allora se io adesso vado in sviluppo GenroPyProjects che sarebbe diciamo la mia custom tra virgolette trovo un musica in cui lui ha creato due cartelle vedo ha creato due cartelle una delle istanze e una dei package la cartella dei package al momento è vuota quindi facciamo un attimo la prova di andare a inserire un new package che chiamo musica package ma potrei chiamarlo come impare ma chiamalo più breve dai che brutto tipo mu mu ovviamente è obbligatorio inserire un package no? perché sarà dove essere il codice sì allora il package è sostanzialmente l'unità di raggruppamento di funzioni pagine e tabelle quando poi su un'applicazione DB based sostanzialmente viene creato uno schema per ogni package di norma di norma esatto non obbligatoriamente ma è anche proprio una directory sul file system dove tu raggruppi tutta una serie di funzionalità procedure quindi diciamo questa cartella move adesso io gli direi di confermarla e di andare nel file system così la confermo a questo punto qua la posso anche selezionare e lui già mi attiva quest'area se vado di qua troverò il mio la mia cartella move con una serie di altre cartelle tutte create automaticamente in questo istante il package deve avere un modulo main chiaramente che in questo caso è già stato pre compilato andiamolo a vedere quindi apriamola anche con VS Code questo musica così man mano noi vediamo quello che fa il package editor perché package editor non è obbligatorio adesso lo stiamo usando ci sono anche degli script che fanno queste stesse cose ma noi non sappiamo qual è il livello di vari partecipanti normalmente tutto quello che è piuttosto semplice intuitivo che ha un'interfaccia grafica viene apprezzato da quelli che non hanno magari una grandissima dimestichezza con certe con certe cose come sempre mi annovero cioè chi arriva diciamo dal mondo web tendenzialmente è portato quindi a questo punto lui ha creato questo ma adesso dovremmo crearci tutte le tabelle a mano Davide no allora adesso cosa facciamo adesso lui ci ha creato il nostro main e ci ha creato una serie di altre cartelle tra cui model e resources che sarebbero il model di fatto e le risorse che cioè rappresenteranno il nostro model allora a questo punto io gli attivo il nostro package MOOC che ho appena creato e vado a inserire il concetto di database esterno quindi per esempio richiamo il database esterno in questo caso noi prendiamo un SQLite ma può essere uno qualunque di questi io ho il file pronto quindi diciamo che utilizzeremo questo può addirittura partire da dei fogli Excel ok esatto allora poi sul blog se andate a vedere ci sono delle genre pills in cui noi facciamo questa stessa cosa partendo da intanto questo database qua che è un database diciamo di prova contenente una serie di tracce album e fatture relative iniziamo a fare una specie di music store lo trascini io vedo che l'hai trascinato esatto lo trascino qui a questo punto lui mi dice ok è stato aggiunto il file premi connect io premo connect in questo caso lui mi chiede se voglio evitare le importate evitare quelle senza pk o le vuote in questo caso io lo semplicemente conferma e lui mi fa vedere cosa c'è dentro questo db e mi fa mi dà la possibilità di selezionare le tabelle che io voglio importare in questo caso io le seleziono tutte tranne evito queste due perché sono un tabello di sistema che non mi interessano mantengo però le altre che invece hanno dei dati che mi servono e premo add to model per aggiungerle al model e lui mi crea questo fondamentalmente ma scusami quindi se andiamo su file system le troviamo sì scusate faccio lo stupido ma a questo punto dentro la cartella model lui mi ha creato esattamente tutti i file che noi vediamo qua sulla sinistra quindi mi ha creato il file albums il file martis eccetera eccetera uno per tabella io vedrò per esempio che albums è così costituita che poi è esattamente quello che io poi vedremo quando faremo donor cosa ci si mette per il momento sostanzialmente definisce delle tabelle definisce le colonne definisce i tipi delle colonne eccetera anche ha aggiunto le relation vedete la linea 9 qui c'è l'album ha chiaramente la relation alla foreign key artist ha aggiunto lui una relation automaticamente nel nostro nel nostro descrittore python di come vogliamo che sia il database ecco cosa ci viene comoda poi quando vediamo le risorse perché come informazione per i pythonisti che amano python come lo amiamo noi tutta questa cosa è un grosso grazie a Red Baron che è un bellissimo package che mi è piaciuto molto che consente di manipolare codice python via programmatica generare codice python in un modo molto efficace quindi se per caso siete curiosi anche voi volete generare codice python programmaticamente il barone rosso potrebbe aiutarvi ok a questo punto cosa dobbiamo fare Davide dobbiamo allora a questo punto possiamo editare anche il contenuto di queste tabelle allora no allora qua no ma all'interno del nostro file no 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 sì che invece sì Davide devi fare doppio clic su la doppio clic su trex ah ecco adesso si scopre una cosa no ah vabbè sì ok da qua sì qui editiamo una table e vediamo tutte le colonne di ogni colonna possiamo vedere le relazioni possiamo vedere e possiamo modificarle possiamo fare quello che vogliamo e aggiungere possiamo col più aggiungere nuove colonne cambiare i nomi ad esempio io voglio dire che il name short di name n invento gli ho aggiunto un name short eccetera posso salvare se vuoi modificare una relation ad esempio puoi fare doppio clic lì a questo punto qui ti si apre puoi dirgli ad esempio che all'on delete vuoi fare un cascade piuttosto che un set null eccetera eccetera ok quindi a questo punto noi abbiamo come vedete avete visto prima come funzionavano le varie forme noi stiamo editando una colonna database ma vedete che i bottoni simboli del dischetto del semaforo eccetera sono uguali perché noi sostanzialmente riutilizziamo gli stessi identici strumenti che usiamo nella produzione della contabilità anche per questo cioè tutta questa parte di codice comune ed è riutilizzata in tutto quindi questo è un po' la ricchezza della fortuna di Genro Pai di sfruttare veramente tutto 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 milioni di volte senza riscrivere quasi nulla il contatto non fa una scrittura su database ma va a rigenerare i file va a aggiornare i file python sul file system e noi andiamo a vedere quel file vedrete che avrà messo un on delete nella relazione on delete cascade una domanda posso anche fare l'inverso cioè editare il file su tvs code vedere il risultato di lasso esatto vieni qua mettiamogli qualcosa devi farlo da vscode ha detto giustamente on delete set null no null ok a questo punto se io vado command extra me l'ha preso un po' allora eccola qua sì la cosa bella di red baron è che red baron che fa un bel parse automatico e quindi gestisce tutto questo non ci prendiamo nessun merito se non di aver scoperto questo strumento e di averlo infilato tra l'altro abbiamo fatto anche un proprio un debug un interprete con debugger per fare le cose fatte in web in europe usando sempre red baron va bene diciamo che nella prassi poi quello che succede è che io posso creare qua diciamo le tabelle poi fondamentalmente spostarmi su us code e andare poi effettivamente a mettere le mani in pasta che poi è quello che si fa ma anche dal punto di vista documentativo quando io le tabelle le posso prendere le mie colonne e posso esportarle in excel quando ho le colonne esatto c'è il bottoncino di excel se io ad esempio ho bisogno di revisionare del codice voglio vedere la lista delle colonne se io confrontarti con qualcuno sul tracciatore diciamo che sono tutti strumenti che poi quando uno ha disposizione è libero di usarli o meno se si trova io faccio tutto quasi tutto a mano però mi rendo conto che specialmente per certi lavori abbastanza pratico adesso punto iniziale sicuramente e a questo punto per quello che riguarda le forme le viste dobbiamo farle noi a mano no allora a questo punto noi abbiamo creato ipotizziamo il model nel momento in cui le selezioniamo tutte possiamo creare automaticamente anche tutte le altre risorse quindi se io premo make resources lui automaticamente su tracks mi crea la risorsa relativa quindi la risorsa divisa in classe view e classe form questo fa per tutte le tabelle che ho selezionato le view queste classi view e form sono quelle che servono al nostro component che si chiama table handler che quello è un un component che ci serve proprio a gestire gli accessi alle table le scritture le modifiche le cancellazioni tutto quanto sotto forma di pagine abbastanza standard o anche griglie che possono essere incluse dentro a delle pagine invece specifiche l'applicativo diciamo che le vediamo le vediamo esatto farei partire l'applicativo così farei ancora il menu allora a questo punto continuo a selezionarle e creo il menu il menu mi crea di fatto queste voci qua all'interno di questo menu quindi mi permette di creare una pagina menu per ognuna delle voci interessate a questo punto posso fare la db setup quindi mi sposto dall'aspetto meramente codicistico al db effettivamente quindi creo il database e tutte le tabelle collegate nel database questo bottone esegue uno script che noi normalmente diamo da terminale un comando che diamo da terminale che allinea il database a come sono descritte le tabelle nei file python quindi in questo caso siccome il database era vuoto non esisteva ha fatto proprio tutte le create table le create column eccetera ma questo comando può essere ovviamente lanciato invece in aggiornamento per cui se io aggiungo una colonna o modifico il dtype se schiaccio di nuovo db setup va per differenza chiaramente a fare solo le modifiche una volta molto importante se avrei detto una cosa molto interessante il fatto di funzionare in update se utilizzerete sqlite sarà limitato perché sqlite supporta abbastanza male la alter column quindi il suggerimento è sqlite va bene per fare i primi 20 minuti o un'oretta di lavoro poi se volete lavorare seriamente vi suggeriamo caldamente di utilizzare postgre sql che è sicuramente più idoneo per qualunque sviluppo non banale ciò non di meno se no se se volete farlo lo fate però sappiate che la migrazione per quello che riguarda l'alter column in sqlite purtroppo non è sopportata infatti quando lavoro con sqlite per questi progetti didattici faccio prima lo butto butto via il file finché sono in una fase di design che devo continuare a modificare di type eccetera lo butto e lo ricreo poi ovviamente purtroppo quando ci sono i dati dentro diventa una rottura adesso qua c'erano i dati possiamo importare i dati allora qua i dati non li abbiamo ancora importati nel senso che a questo punto io clicco su import legacy e lui dal database che gli ho dato in pasto prima diciamo si tira dentro anche tutta la parte di dati quindi con la db setup abbiamo creato il guscio lo scheletro sì cioè si crea proprio la struttura in termini di tabelle e colonne ok e andiamo a usare l'applicazione come scusa? andiamo a usare l'applicazione ecco a questo punto la possiamo avviare nel senso che effettivamente è pronta quindi io dopo aver avviato il daemon che è un po' il processo che deve andare sempre fondamentalmente di genre file allora possiamo lanciare anche la nostra applicazione che a questo punto abbiamo chiamato musica metti la suona a porta diversa la mettiamo sulla porta 8181 perché qua mi tengo sandbox attivo e lui a questo punto sta effettivamente andando io vado sulla mia porta 8181 ecco Mario ci aveva detto magari lo facciamo del database del blog però il database del blog ha un po' poche tabelle un po' poche righe invece questo esempio che potete trovare anche voi disponibile online del Kinook è una specie di piccolo iTunes Music Store con album dischi artisti diciamo che si presta un po' di più soprattutto per la parte di relazione che adesso vediamo però io adesso mi logo con l'admin che è l'utente che mi crea di default general file nel momento in cui lo installo quindi inserendo quella password mi trovo già una voce musica e adesso vediamo che già nelle tracks vedremo un po' di cose carine quindi ha creato due menu di sistema che vedremo poi in futuro spiegheremo invece la parte diciamo che abbiamo appena creato relativamente al database di musica sono sotto il menu musica e c'è una voce per ciascuna tabella andiamo ad esempio a prendere artists gli artisti quindi questo per capire è il famoso package sys che vedevamo nel nostro package editor quando l'abbiamo creato questo è il famoso package adm e questo è il package mu che abbiamo creato quindi abbiamo tre package nella nostra app adesso esatto adesso se andiamo sugli artisti a questo punto l'interfaccia è sempre la stessa noi eseguiamo le query con questo bottone play a questo punto io per esempio entro negli ACDC che a me piacciono quindi entriamo e troviamo gli album cioè lui automaticamente ha riconosciuto che sulla tabella degli artisti c'era una relazione con questi album una relazione una a molti e lui automaticamente ha messo una griglia inclusa per vederli e se adesso tu fai doppio click su un album dovresti vedere la track list mi apre automaticamente un dialog dove mi fa vedere tutte le tracce mi dice quante sono dieci mi dice quante sono qui posso aggiungerle cancellarle aggiungere cancellare ma posso configurare anche questa vista prendere quella sì ci possiamo spostare un attimo di qua e capire no 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 configurala da interfaccia Davide ah ok va bene vedete che in tutte giroppai c'ha queste queste linguette laterali che servono a fare le configurazioni ad esempio dall'artista apriamo etartista id andiamo a vedere tutti i suoi album quindi vogliamo vedere tutti gli albums non facciamo altro che trascinarli sì ma quello è aggiunto su album quindi torna indietro torna indietro no no sei un artista vai indietro nella lista degli artisti ok ok quindi ad albums ad artist vedete ogni volta che noi apriamo queste queste linguettine questi questi triangolini lui sta espandendo le relation a molti ok quindi da qui noi trascinando possiamo mettere dunque qui siamo negli artisti vediamo gli albums e possiamo mettere l'album il title scusami mettimi il titolo dell'album l'ho messo ok quindi vediamo tutti gli album che hanno questi questi artisti che zeppelin hanno un po' di album la roba delle zeppelin una cosa carina che possiamo far vedere invece sulle tracks risalire mostrare della track l'album l'album l'artista e poi addirittura fare qualche raggruppamento allora quindi quindi si è esposto nella track allora vogliamo vedere l'artista giusto si cosa mettere si artista quindi quindi dall'album vai perché la track partiene a un album e l'album è di un artista comunque queste configurazioni di le view sono fatte per i programmatori o anche per gli utenti per gli utenti perché l'utente noi insegniamo c'è tutta una parte insegniamo agli utenti a farsele poi a salvarsene vedete adesso quando abbiamo finito possiamo salvarci la configurazione salva la vista gli diamo un nome vista mia può essere privata solo per me può essere richiesto dei livelli d'autorizzazione eccetera quindi il fatto di crearsi le viste in in geropai tutte le viste se io non dico di non farlo sono automaticamente configurabili per farvi un'idea io vorrei farvi vedere una piccola cosa che è l'inspector se Davide può aprire l'inspector per favore sì l'inspector anche lui è fatto su geropai con l'interfaccia di geropai ci consente di vedere certe cose ma io ne ve ne voglio mostrare una in particolare andiamo su SQL eseguiamo una query qualsiasi tipo un artista che contiene fast cioè il titolo che contiene fast è anche una query a sto punto se vuoi una qualsiasi una qualsiasi lui ci ha fatto vedere che questa chiamata adesso fanno un'altra allora high name la mettiamo al genere rock metal metal sei aggressivo ok se vedete praticamente questa chiamata è che quella la 25 la allarghiamo un po' è una chiamata che è durata 156 millisecondi ha un size di risposta di 41 millisecondi e l'SQL time di 35 millisecondi e questo è l'SQL che genera lui per dalle cose che abbiamo fatto quindi mano a mano che noi facciamo le query le viste eccetera lui costruisce l'SQL al volo ed è per questo che il nostro sviluppatore può in un certo senso dimenticarsi delle SQL perché molto lavoro lo fa automaticamente proprio anche solo semplicemente così da configurazione quindi questo è stato un esempio di come noi in pochi minuti siamo partiti da un database e abbiamo fatto un'applicazione ovviamente questo è solo l'ossatura poi da questo ossatura normalmente si procede andando a rifare l'interfaccia cambiando i nomi delle colonne ci fa una rifattorizzazione e si fa tutto quello che uno vuole però già con l'herby diciamo che abbiamo visto prima ecco ad esempio fai prova a creare una nuova traccia giusto per far vedere comunque che anche la forma è abbastanza smart di suono nel senso che se vai sotto album ID credo che ci sia già collegato la tabella degli album se tu vuoi aggiungere una track a un album ha già automaticamente il campo intelligente con la tendina che va sulla relazione corrispondente un'altra cosa che volevo far vedere se vai sulla pagina delle invoices che è carino per fare delle veloci analisi del venduto ma anche su questa stessa delle tracks se vai nel formato lista vedete che c'è quel piccolo sigma in basso magari chiudi il menu laterale quando si parla di battery included ad esempio questo costruisce delle pivot apri il menu a sinistra ecco questo costruisce delle pivot table ad esempio andiamolo a vedere per genere e per durata non so per genere artista ok genere artista diciamo che se lo facevano sulle fatture avevamo anche il totale del venduto sì ma adesso giusto per vedere ok questo punto se lo lancio la mia query poi totalizzare i bytes ah perché no ecco sotto SQLite alcune cose non sono definite ah ecco no perché c'ha ecco questi sono i limiti di SQLite che certe funzionalità non le supporta quindi questo poi lo vedremo su non nelle versioni SQLite era comunque per farvi vedere che la frase di Mario super battery included perché scrivendo praticamente niente vi trovate una serie di funzionalità dalle pivot table alle configurazioni delle viste tutto tutto compreso non so anche per quello che riguarda la 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 versione delle stampe se io voglio fare un qualcosa che riguardi i miei album oppure gli artisti poi una nuova stampa tanto per far vedere new print io voglio fare una stampa di tipo tabulato allora file editing del della parte superiore delle colonne quindi mettiamo che ci interessa mettiamolo come vogliamo allora togliamo beh no possiamo anche lasciare abbastanza così no sì così abbiamo il nome ok dagli un nome alla no in alto a sinistra ok e ci ha fatto sotto il pdf questo è l'anteprima html poi si può fare il pdf qui abbiamo fatto anche una serie di video in cui proprio sempre partendo da questa applicazione abbiamo fatto la carta intestata tipo non so se mi ricordo sarà il catalogo musicale abbiamo fatto la carta intestata abbiamo fatto tutto l'editing della della vista della stampa si possono fare anche i totali a spezzamento nella stampa per cui se vuoi totalizzare la durata esatto quanto hai venduto per genere musicale lui ti fai i sub totali a spezzamento con riporto pagina precedente totale di pagina tutto anche questo editabile da interfaccia grafica chiaramente le stampe poi che noi andiamo a fare per gli applicativi reali di nostri clienti non vengono realizzate così perché sono molto più complesse però se uno vuole fare una bella presentazione pdf di un tabulato dei dati comunque può farlo senza nemmeno quando Davide chiude questo questo dialog vediamo che a questo punto nel menu della stampantina ci troviamo automaticamente inserita prova e quando io stampo prova lui mi va direttamente a fare la stampa mi dice che titolo voglio dare eccetera eccetera e mi fa la stampa mi prepara il mio bel pdf e mi dà la possibilità di scaricarlo oggi abbiamo visto posto per esportazione mail eccetera eccetera si possono fare la creazione di template ok diciamo che questa parte qui adesso non so che ora sia perché ci siamo andati un po' lunghi però era per far capire che esiste la possibilità di creare questo questo database questa applicazione a partire da un database esistente mi fermerei un momentino e lascerei la parola a Mario intanto per fare le considerazioni sì no io volevo solo dire appunto per aggiungere qualcosa quello che avete già detto è che abbiamo visto l'utilizzo ottimale per fare un prototipo veloce esatto cioè per far vedere anche solo quando a livello di design si pensa ad un'applicazione si può già vedere cioè far vedere qualcosa di funzionante al cliente secondo me è una cosa veramente importante perché il cliente vede subito cosa cosa si potrebbe vedere come gestiamo i dati le tabelle eccetera diciamo che l'uso maggiore del package editor normalmente è per portare applicativi legacy non so uno ha un applicativo fatto in access tipica situazione si era fatto 15 anni fa un applicativo in access lo vuole portare nel web diciamo che da access prende il database e lo lo trasforma e poi ha il suo applicativo in general pipe e poi deve entrare nelle form modificarle mettere delle cose ma il grosso ce l'ha già fatto da solo e quindi questo è un modo per portare il database legacy molto rapidamente fargli fare un salto di 20 anni ecco noi stessi facciamo spesso il cliente o il prospect ci dà l'accesso a un dump con il quale noi realizziamo in questa modalità brutale il mirror chiamiamolo così del vecchio applicativo mirror lo mirror lo mirror lo mirror lo mirror lo mirror in postgre e genero pipe poi a quel punto ci mettiamo a fare con questo strumento che è molto comodo il design della nuova versione nativa genero pipe ma a quel punto poi quando dobbiamo fare anche l'importazione dei dati siamo molto comodi perché lavoriamo postgre su postgre e genero pipe su genero pipe quindi anche poi per le importazioni che riprendete e perfezionate non è che dovete rifare qualcosa praticamente dovete perfezionare noi facciamo un nuovo package ex novo perché normalmente ci sono poi dopo molti anni uno cambia delle idee però abbiamo tutto sotto mano perché a questo punto possiamo ridisegnare e ogni volta che importiamo dobbiamo solo fare dei piccoli beccettini che fanno l'allineamento dei dati magari da un tracciato record che non era stato studiato bene nella versione legacy e lo si modernizza cioè questo fate conto che recentemente un nuovo sviluppatore ha portato un applicativo per veterinari piuttosto immenso e in un paio di mesi ha fatto tutto perché si era trovato tutto il suo legacy database legacy sviluppato con un altro database in un altro modo si è trovato tutti i dati popolati tutto pronto e quindi ha fatto veramente molto meno fatica quindi lo scopo del package editor in realtà è nato per questo ci sono due domande dal pubblico sentiamola così c'è Carlo che chiede che driver usate per Postgres e in questo momento quello che c'è poi adesso prenderemo psicopi g3 appena il buon vedremo la presentazione Daniela giusto il buon Daniele l'avrà completamente terminato ma è già è già usabile lo stiamo testando e non vediamo l'ora che sia disponibile sarebbe un framework psico pg3 psico pg3 fatto da Daniele cioè era stato sviluppato inizialmente da da fog e poi è stato preso in carico da Daniele che sta facendo un lavoro immenso e tutto il mondo dovrebbe baciare il terreno dove posi i piedi perché senza il suo lavoro Postgres non sarebbe quello che è in questo momento per i pythonisti quindi la seconda domanda è se se non si vuole usare l'ORM di GenroPy si può comunque scrivere le SQL a mano? ma anche con l'ORM di GenroPy si può scrivere con le SQL di GenroPy a un certo punto è un'istruzione execute in cui uno può metterci quello che vuole metterla dentro l'execute si diciamo che il comando cosa fa l'ORM di GenroPy non fa altro che creare una struttura virtuale in modo tale che facilita cioè rende possibile la traduzione automatica però nulla vieta di dire quel che l'è db.execute e mettergli dentro una qualsiasi istruzione SQL la più complicata possibile che comunque però sfrutta poi il fatto che quando c'è il ritorno dei dati se li trovi impaginati può andare diciamo direttamente a riempire le griglie eccetera perché tutto il resto invece viene preservato cioè l'ORM di GenroPy è molto semplice prepara una query compilata fa una fetch all e poi prende la lista di tuple di name tuple e la può rendere o come lista di name tuple o elaborata in vari modi quindi se uno si fa rendere la lista di name tuple a esattamente quello che la dbapp di python fornisce nulla di più né nulla di meno ti fornisce un aiuto nel gestire le migrazioni in passaggi di versione nel compilare le query nel fare le scritture cioè ti evita ti evita di dover scrivere del codice SQL ma lui stesso se lo vuoi scrivere tu nessuno te lo vieta sì diciamo che una cosa è che essendo nato per essere ben integrato sia con la parte pagina che con il server chiaramente ti permette di avere molte cose già pronte ad esempio Davide entra dentro un record di tracks e apriamo di nuovo l'inspector una cosa carina ecco questo qui è molto bello seguitelo con attenzione adesso lui entra nella traccia adesso Saverio vi dice ora questo inspector nella prima pagina dove vedete il primo tab dice data questo vi ricordate che abbiamo parlato del mode view controller sostanzialmente dentro questo tree che noi abbiamo queste piccole directory è il data store della nostra pagina caricata in particolare noi adesso siamo entrati dentro la form quindi dentro a mutrax che sostanzialmente è la table mutrax apriamo dentro form dentro a form abbiamo il record e dentro il record qui abbiamo tutti i dati che sono visualizzati ad esempio name ecco correggi il name da qui anziché da lì vengo qua vedete che appena lui esce da qui siccome noi siamo in un model view controller noi l'abbiamo modificato qui non è stato modificato sul database siamo semplicemente a livello infatti vedete facciamo vedere l'overlay sul semaforo che mi dice guarda che è stato cambiato hai cambiato il nome da qui a questo quindi mi dice cambiamenti che ho fatto e quindi questo ci fa vedere il contenuto del record saverio se vuoi andare avanti ora la cosa vedete che a un certo punto certe colonne però hanno gen raid che è la foreign key del genere ma hanno anche sotto chiocciolina gen raid che cos'è chiocciolina gen raid è una rappresentazione tipografica chiamiamola così di quella che è una relation in questo caso ascendente quindi noi a sto punto andando a espandere con quel più e aprendo dentro vediamo che il genere è rock ora lui questa cosa qui nel momento in cui ho espanso la cartellina del genere di sotto il naso senza che me ne rendessi conto lui ha fatto un accesso al database per andare a leggere quindi cosa corrispondeva a quel genere di ma se io a questo punto invece poi espando ma vai nelle relazioni a molti vedete che sono le tracce le tracce a questo punto vedere quali sono apri col col cosa quali sono le altre tracce di quello stesso genere di quindi ci troveremo un sacco di tracce ha preso tutte le tracce di quel genere che ci sono nel database sì oppure adesso forse facciamolo su su sull'album si leggono qua sotto nel name vedi sì ma facciamolo se no sull'album anche sempre lo stesso discorso se io espando la relation et album e a questo punto et album vado et ok qui vedo le altre track dell'album espandi vai apri fai il più per favore si apri il più ecco e a questo punto tutto il record dell'album per cui posso risalire e dall'album posso andare a di nuovo genere media type e quant'altro tutto questo modo di navigare nei dati come se stessi praticamente percorrendo delle directory e laddove ho delle relazioni sia sulle relazioni ascendenti che discendenti è tutto integrato tutto automatico con il nostro RM se 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 vai a vedere se l'SQL è ancora aperto vedremo tutte le cose che facciamo torna nel dato si fai attiva il debug e torna qui a questo punto quando hai dei dati quando apri questi qui questo artist ID ecco se tu vai a questo punto nell'SQL guarda il title gli altri album sempre degli CD torna nell'SQL queste sono le varie query che lui ha fatto nel frattempo eccetera quindi questo perché il nostro RM è vantaggioso perché si integra perfettamente con queste cose gestisce tutte queste cose in automatico quindi lui è in grado quando sono sul client di capire mano a mano che io gli chiedo di prendere certi dati di andarli a prendere direttamente sul server senza che io debba preoccuparmi di scrivere quella parte di programma lo faccio in automatico in un modo estremamente semplice e trasparente ecco se c'erano altre domande c'erano altre precisazioni sul discorso database eccetera al momento no va bene allora io interromperai questa parte qua chiederei a Mario di forse siamo andati un po' fuori dei tempi però quando si inizia a parlare è facile ma no anche perché per questa sera c'era ancora l'hello world cioè avevate ancora sì sì abbiamo voglia se siamo sono diciamo sono le 22 e 35 abbiamo diciamo ancora 20 minuti ecco io direi se si vuole volevamo se avete voglia di vedere potremmo farvi vedere come proprio un inizio della sintassi di geropai cioè quella che è chiamata la pagina e lo world ovvero ma come si inizia a scrivere una pagina sì sì vediamo se Davide ha pronto un ok intanto facciamo dalla gallery o facciamo da una pagina intanto lo facciamo vedere se vogliamo nella gallery nella gallery noi comunque facciamo vedere degli esempi e spieghiamo un po' la tecnica sostanzialmente per fare la classica pagina e lo world io vado a fare una pagina è una web page che poi andiamo a vedere che contiene queste righe di codice cioè istanzi una gnr custom web page definisco un metodo main che riceve root e root è l'oggetto iniziale e io in questa root metto una div metto un div hello world con text align center font size 40 pixel e questo è il risultato quindi questo è siamo nella situazione ecco andiamo a vedere il hello world 2 questo è quello che intendevi per python diciamo cioè javascript mascherato da python esatto sì sostanzialmente qual è l'idea poi dopo possiamo anche andare a vedere con un esempio vivo che noi in python scriviamo quello che chiamiamo la ricetta della pagina cioè stiamo scrivendo con questa sintassi particolare la descrizione di come vorremmo che fosse la nostra pagina a questo punto quando poi invece noi lanciamo sul server andiamo veramente alla nostra pagina corrispondente al file questa descrizione viene mandata a un oggetto javascript a un engine javascript che risiede quindi chiaramente sul client il quale riceve sotto forma di xml questa ricetta e fa la costruzione della pagina e del dom direttamente nel client quindi questo è un po' la particolarità della nostra architettura e del nostro modo per vedere un momento questa nel dettaglio io ricevo un root nel root metto un div con questi margini eccetera e lui mi rende un oggetto che è box io dentro a box vado a mettere un div un altro div poi vado a mettere un button e in questo button mettiamo un action e questo action in realtà è un piccolo pezzettino di javascript che dice alert good click cioè questo è un esempio di quello che io posso fare e di come c'è una piccola mascheratura tornerai nella gallery all'esempio seguente magari possiamo far vedere come l'engine javascript carica la xml volevo soltanto terminare questo queste prime tre cose così vediamo una cosa caratteristica è quello che io separo i dati dalla forma cioè in questo caso io ho un text to show che dice hello world e faremo ciao biella e vedete che io appena scrivo questa cosa automaticamente la pagina reagisce in modo tale da seguire quello che io ho fatto perché perché io ho ricevuto la root e nella root ho metto un oggetto che si chiama for builder che non è altro che un impaginatore ho messo un text box in cui il contenuto va in una variabile che si chiama my text con la label text to show e come default c'è l'oward poi ho messo un combo box che è questo con i colori black red green e orange e questa cosa va dentro a my color che è un'altra variabile in memoria e ho messo un font size anche questo con un combo box poi ho fatto un div il cui contenuto è my text il cui colore è my color test align center e font size my font size cioè utilizzo queste variabili che io vado popolare dentro al mio div tutta questa cosa fa sì che la pagina sia una pagina viva come potreste farla con react con angolo con quello che sia ma in un modo estremamente semplice e questa è la parte che voi potete imparare a fare facilmente qui io comunque do delle spiegazioni nella parte superiore ma adesso Davide vi farà vedere qual è il percorso migliore per chi vuole imparare e conoscere meglio questa sintassi sì diciamo che allora noi abbiamo già da documentazione allora se noi andiamo alla sezione documentazione noi fondamentalmente prevediamo un percorso che parte dal tutore di fatturazione che sarebbe diciamo una parte più pratica dove quindi uno già si mette le mani in pasta e cerca di costruire un applicativo da zero in parallelo c'è il corso base GenroPy che invece di fatto ti permette fondamentalmente di capire quello che hai fatto nella prima parte diciamo questo è stato un po' il percorso per me diciamo il tutorial fatturazione classico learn by doing tu esatto fai un progetto senza con delle spiegazioni via via che i concetti vengono introdotti ma non in un ordine diciamo a difficoltà crescente ma via via che vengono incontrati mentre nel corso base di GenroPy noi vogliamo insegnare proprio come scrivere le pagine in in GenroPy fornendo quelli che sono i concetti chiave vedete che anche qui abbiamo il codice con la la versione live demo sopra in un iframe quindi si può vedere il confronto e poi ci sono dei bellissimi video fatti da me e Davide esatto in cui cerchiamo di spiegare in modo discorsivo e spero non troppo pesante questi questi concetti meglio io cerco di chiedere arriviamo a una quadra più o meno insieme invece in GenroPy eccoci qua la cosa carina è che si possono tutto questo corso base di GenroPy si può scaricare da da GitHub anzi no da da GitHub o da no allora il corso fondamentalmente una volta che uno clona sandbox quindi una volta creato diciamo in il repository in sandbox diciamo che lo splash screen cioè la pagina principale di sandbox già ci suggerisce di scaricare una cabina in locale del medio del corso o meglio di tutte le documentazioni disponibili e il corso in particolare qua ci sarà il bottone download anziché l'update perché ce l'ho già e una volta che uno lo apre la particolarità è che poi può essere modificabile in tempo reale ecco questo è una per cui dentro al manuale html io senza che volere lo work voglio scrivere ciao biella cosa faccio ecco piccolo accorgimento per poter fare questa cosa lo facciamo subito in diretta così almeno ce l'abbiamo perché va avviato con un attributo che è remote edit altrimenti non mi permette di modificare ok quindi lo rifaccio un attimo allora a questo punto se io qua voglio scrivere l o biella mi compare il dischetto io salvo e non ha funzionato e non ha funzionato va bene ci sarà una ragione ma siamo troppo stanchi un attimo se la facciamo magari non ha caricato ecco adesso l'ha caricato non ha ricaricato non so perché non l'ha ricaricato ma vabbè adesso vediamo ecco la la cosa che vuol cerchiamo di spiegare prima magari però la vediamo se se tu apri su una pagina a parte proprio questo hello world semplicissimo per far vedere che comunque come funziona l'engine javascript quindi questa integrazione di cui parlavamo tra il client e il server allora sì sempre su sandbox noi dentro web pages abbiamo già hello world in questo caso quindi io mi limito ad andare in sandbox hello world lo vedo già se io vedo il sorgente della pagina posso rimanere abbastanza stupito perché vedrò che a parte tutte queste importazioni portazioni sono così perché lui è uno sviluppatore l'utente finale invece ha tutto compattato e minimizzato certo vedete che però di fatto non c'è nulla nel nel body se non questo è la cosa più importante questo script lo script tra la linea 67 e 71 in cui viene istanziato l'oggetto genero client il quale una volta che nasce che si attiva nella sua pagina ha il compito di ricevere il source della pagina quindi questo questo xml e andarlo a costruire a costruire il dom che ci farà andrà a far vedere quindi se noi ad esempio poi vediamo nelle chiamate di rete questo xml che arriva effettivamente la cosa è composto se tu ricarichi e no devi guardare con con la console giusto ok final tab delle chiamate di network ecco un'altra cosa che ovviamente bisogna saper fare è fare un minimo di debug usando chrome eccolo lì hello world ok guardiamo come è fatta sta chiamata e soprattutto cosa ci rende il response vai nel tab del response ok ci ha reso una roba molto più complicata perché qui siamo in quello completo non abbiamo preso siamo non siamo in quello giusto quindi vabbè sostanzialmente comunque è qui che veramente risiede il codice della pagina diciamo che poi se volete nelle prossime occasioni ci torneremo fu dire che adesso forse un po' tardi dovremmo avviarci alla chiusura perché se no non rischiamo di c'è anche una domanda di Andrea che invito a farla direttamente va bene allora la dico la dico al vivo supporta c'è la sandbox e diciamo l'esempio base che avete già fatto vedere supporta già tutti i tipi di browser e può essere facilmente reso responsive per i dispositivi mobile sì la risposta sostanzialmente è sì qual è il vero problema è che siccome questo nasce per fare applicazioni tendenzialmente le pagine sono piuttosto massive quindi su un tablet funziona discretamente bene certamente se su magari pochi pollici sei pollici cerco di fare tutta una contabilità diciamo che che non è proprio facile però tendenzialmente le pagine funzionano abbiamo dei clienti che usano magari non tutte le pagine ma se voi entrate sulla pagina di sandbox con un qualunque tablet è sul sandbox magari appunto tutta questa logica diciamo che trasformarla su tablet meglio su mobile è un po' più complicato diciamo perché comunque effettivamente tu hai una struttura tabellare che per definizione deve essere tabellare sì diciamo che però se queste cose le usi su un tablet sul tablet orizzontale ok diciamo che su uno smartphone più piccolo chiaramente dimensione ridotte invece più che altro io ti confesso che quando voglio vedere i dati di software accedo tranquillamente a Erpi dal telefono e vado faccio praticamente tutto vedo anche i bilanci bisogna avere un po' di pazienza perché ovviamente sono pagine immense che si vanno a condividere non è proprio il caso d'uso ideale no però se uno ha bisogno invece di fare ad esempio una cosa che ne abbiamo già pensato cioè già fatto di fatto la possibilità per i dipendenti di registrare le note spese quando sono in viaggio sono al ristorante eccetera allora lì accedono a una pagina che è specificamente progettata per essere utilizzata da mobile quindi direttamente accede direttamente alla form senza tutte queste cornici menu e cose fa l'input della sua spesa addirittura fa la foto allo scontrino e la nota spesa è registrata quindi ovviamente se ci sono delle pagine che richiedono operazioni complesse eccetera uno le fa le progetta perché vengano utilizzate da computer o da ipad mentre se sono delle cose molto veloci che ci stanno bene in un display piccolo le progetta di conseguenza no ma infatti il corso prima del condominio cioè visto che quello lì era una cosa che uno può fare anche da un mobile cioè la compilazione di una form e la selezione di alcune checkbox per dire per fare gli interventi si crea la pagina ad hoc e si fa ecco certo c'è comunque l'indirizzo sandbox.org dove c'è invece il quello che potete ottenere se invece fate il tutorial di sandbox questo è l'applicativo che voi invece otterrete se fate il tutorial della fatturazione che quello è molto ben spiegato con video e quant'altro ottenete sostanzialmente una fatturazione giocattolo quindi un database con archivio clienti archivio prodotti tipi prodotto fatture righe fattura righe vendita qui potete giocare ad esempio potete anche fare un po' di prove anche di fare le pivot table analisi di dati aggregati se vai tipo sulle righe vendita per esempio qui potete giocare e credo che ci sia proprio predisposto anche a degli utenti guest adesso sono andato come ospite per far vedere quello che vedrà se fai vedere ad esempio qua col Sigma quella cosa che prima non si è riuscito a vedere perché Seculeite non era collaborativo andiamo a prendere prendiamo queste sono le righe vendita qua però non siamo non vediamo un altro bezzo nel senso che non ci fa compilare la struttura cioè dovremmo averla già compilata ma forse per dragarlo comunque dalle colonie a destra ecco il trucchino anche se non nel modo corretto no no dalla linguetta a destra aspetta che qua adesso ho questa ecco vedi queste invece ci sono le risaliamo da fattura da fattura risaliamo no no la descrizione no 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 volevo solo vedere se andava quindi effettivamente sì apri fattura da fattura apri cliente da cliente apri provincia provincia ok metti anche la regione apri regione vedete qua stiamo espandendo le relation ascendenti discendenti mettiamo prima regione poi provincia poi ok poi meno mettiamo anche l'importo si chiudi fattura vai sulla riga vai no 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 in fondo chiudi fattura davide chiudi l'importo della riga la linguetta della fattura in alto chiudila la linguetta della fattura in alto allora sempre a destra sempre a destra ok invece prendi prezzo totale la terza ultima riga prezzo totale ok 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 a questo punto io ho fatto ho il totale dei prezzi se lo voglio vedere per tutte le righe voglio vederlo gerarchico vai su gerarchical o in emilia nelle varie province e quando clicco ad esempio su viterbo vedo le righe di fattura di viterbo le righe se voglio invece draggare dalla fattura il cliente dentro la griglia di destra quindi riapri fattura prendi il cliente apri la ragione sociale lo draghi nella griglia no no questa sì vedete come tutto sommato io mi possa vedere tutte queste tutte queste informazioni in un modo estremamente rapido e queste sono cose che poi agli utenti fanno molto comodo perché quando uno ha tanti dati poterli analizzare così facilmente senza dover andare su strumenti esterni come si dice tanta roba tutto questo apre il mondo dell'analisi dati già a livello questa qui diciamo è molto piccolina è comoda sta nel cassetto laterale poi c'è tutto un tool per fare analisi di dati più ancora più potente ma non lo starei a vedere adesso la cosa carina è che anche queste analisi per spezzamenti che si possono fare si possono salvare quindi uno le fa una volta poi la richiama sempre c'è questo tipo di analisi per regione provincia eccetera adesso noi non abbiamo l'utente aggiungi un'altra cosa per favore nella dragatura della configurazione tanto per far vedere qui dalla fattura ricava la data chiudi cliente della fattura lì chiudi cliente invece prendi la data fattura trasciniamo la data quando trasciniamo la data la mettiamo come mese anno anziché fattura data anno e mese anno e mese prendi l'aggregator mettiamo year il primo year poi mettiamo mese month seleziona ancora month ok no hai sbagliato month devi prendere month number month number eccolo qua ok fermo vai a questo punto se io drago anno e mese guardo gerarchico o mese per mese la ripartizione apri 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 mese l'Emilia Lombardia Roma apri e apri la provincia eccetera quindi questa cosa mi consente rapidamente di avere i miei totali se io torno nella versione flat si infatti era meglio al contrario e scambio la regione la provincia e poi l'anno meno lo mettere insieme esatto meglio così ok comunque per farvi vedere com'è semplice poi per un utente e quindi per chi magari è interessato a realizzare applicazioni che vengono vendute come in un certo modo questo dia la sensazione al cliente che abbiamo lavorato tantissimo e che quindi non ne abbiamo messo solo cinque minuti è importante database legacy ma ci abbiamo lavorato dei mesi per lui va bene io penso che se andiamo avanti ci uccidono quindi direi che il programma di questa serata è stato pienamente rispettato intanto vi ringrazio di nuovo a nome di tutti di tutta la community grazie mille siete stati brillanti ma è solo l'inizio come ben sapete la prossima settimana praticamente costruiremo un'applicazione per gli enti di volontari donatori di sangue praticamente da zero quindi vedremo tutti gli step di come si parte con un'applicazione da zero esatto Andrea ci spiegherà il business diciamo e le tabelle poi vedremo quello vedremo anche come iniziare a personalizzare l'interfaccia utente quindi oggi è stata la serata più introduttiva in cui abbiamo visto e credo che a tutti noi sia venuta un po' la colina in bocca il desiderio di vedere e approfondire questo framework prima di terminare vi chiedo cortesemente a Davide di ripassarmi l'host perché c'è un questionario per il gradimento che vi chiedo di compilare giusto due domande ringrazio Nick che l'ha preparato posso fare un'ultima domanda bruciapelo certo ma che cosa è che non funziona di Genropay cioè che cosa che qual è un aspetto negativo di Genropay ci sarà una cosa negativa allora l'aspetto negativo di Genropay c'è ed è qualcosa che è sostanzialmente connesso al fatto che molto spesso gli sviluppatori hanno una mentalità per cui amano fare amerebbero loro fare Genropay non usarlo questa è la vera cosa io mi sono divertito un mucchio quando l'abbiamo fatto adesso perché tu l'hai fatto vi posso garantire che immaginarselo 14 anni fa arrivare a questo punto ti dà un po' l'adrenalina come nerd io sono un nerd di 48 decimale anni ma ti dà l'adrenalina però caspita ci siamo riusciti e secondo me è anche bello se chi volesse partecipare attivamente proprio al framework non all'utilizzo sarebbe ovviamente benvenuto ma noi siamo molto incasinati non siamo assolutamente canonici come progetto open source avremmo bisogno di un grandissimo aiuto però non riusciamo ad averlo quindi quello che non funziona è probabilmente la nostra immagine perché come prodotto per fare queste cose i clienti sono soddisfatti va bene non ha nessun problema tenete presente un po' le dimensioni noi siamo sostanzialmente 4 o 5 sviluppatori che gestiscono l'ORM la GUI interfaccia un sistema gestionale n applicativi nel mondo eccetera cioè evidentemente abbiamo una leva che è veramente potentissima perché sennò 5 persone non potrebbero gestire tutte queste cose se non ci fosse il framework e tutto quello che ci abbiamo pompato in anni di lavoro per produrlo quindi questo è la prova che c'è un paio dal punto di vista se volete produzione software di qualità che funziona bene funziona però non è non è magari così appassionante come magari dire oh aspetta voglio vedere voglio c'è una nuova tecnologia che è di grido ci lavoro tre settimane io ho visto passare hype a tutti i livelli e mode in questi anni però a un certo punto queste mode poi tendono a desaurire quando non sono più novità sono viste invece Geropai è proprio è un muletto una macchina da lavoro non è una formula uno fa quello che deve ti fa fare in fretta se devi fatturare a un cliente ti dà uno strumento che ti consente di dire io fare questo lavoro ci ho messo tre settimane mi paghi tre settimane invece magari ci hai messo tre giorni quindi questo è il vero vantaggio di Geropai per chi di software vuole campare sì il difetto è che non è un framework che nasce dalla mente di persone che dicono scriviamo un web framework nasce dalla mente di persone che volevano scrivere i loro applicativi gestionali e via via che hanno incontrato necessità della vita reale del mondo reale di vari nostri tipi di clienti che abbiamo trattato di qualsiasi tipo e qualsiasi genere perché abbiamo come clienti realtà le più disparate via via che si verificavano delle necessità ed esigenze noi abbiamo aggiunte al framework e ci siamo creati questi strumenti più affilati possibili più potenti possibili ma non è stato un framework pensato a tavolino prima per fare un web framework da diffondere il fatto che noi lo stiamo diffondendo è perché aderiamo alla filosofia dell'open source e ci fa piacere che quante più persone possano partecipare ma come diceva Giovanni abbiamo i limiti di essere un team piccolo una struttura piccola poi in Italia perché magari all'estero avremmo attirato l'attenzione anche di altre persone facilmente bellissimo